Sette! Ultimo chilometro! Fianna Rossa! Nell'ultimo chilometro ci siamo! E sarà l'ultimo chilometro, caro creatore! L'ultimo chilometro, ultimo chilometro particolarmente impegnativo, l'America sta lavorando per il bis di Kiden O'Brien, si mantiene in terza ruota, continuiamo a salire, lo facciamo attraversando il cuore di Maschito, è già uno scatto continuo, scatto contro scatto! Lai in testa, siamo ormai nel centro appagato di Maschito, 500 metri alla conclusione, i sette sono allungatissimi! Attenzione perché Vincenzo Risplendente sta guadagnando per metri su metri! Vincenzo Risplendente nella Madone dei Angeli! 300 metri! 200 metri alla conclusione! Risplendente, sempre leggermente avvantaggiato! Attenzione perché sta arrivando Nicolo Pizzi! Sta arrivando Nicolo Pizzi a breve di metrivo! E Maschito è tutto meglio! Fora a cura con Luca Pizzi! Non è finita! Non è finita! La grande vittoria di Cazzo Pizzi a интер-Langeli! regata la prima fermazione stagionale all'unione cilistica Zorigno e la seconda dopo la vittoria di Luca Laudi in quelli in corcia ma per Giardino Solangeli è la prima perla applausi anche per il siciliano del Nero e del Cico che non sia spessi mio deve prendersi una posizione dei primi dieci giovanissimo questo torridore diretto dal Salone di Paola classe 2007 l'applauso di Maschito per questi meravigliosi proclamisti